Allora, buonasera a tutti e benvenuti. Benvenuti alle persone che sono qui e che con molta emozione io vedo e abbracciato. Benvenuti a chi è collegato online. Vedo tanti amici di Meniere, ma che si diventa amici nel profondo, non di malattia. Grazie ai relatori che parleranno dopo di me, che hanno accettato l'invito. Sono persone che si sono prese cura di me come si sono prese di cura di tanti malati. Ecco, si sono prese cura del malato, non della malattia. È quello che fa la differenza in un medico. Grazie al dottor Pista che mi ha fatto questo grande dono. E quindi parliamo di questo libro che ho scritto, Appunti di una dita senza silenzio, sui gradini di un'ascesa. Volevo spiegarlo un attimo. Intanto perché appunti? Perché sono proprio appunti. Sono appunti che io ho preso negli anni, sono appunti che ho tenuti in un cassetto. Adesso memorizziamo tutto al computer, ma sono cassetti anche quelli. E quindi li ho tenuti lì in disparte. Ogni tanto scrivevo qualcosa, poi lasciavo. Un po' perché mancava il tempo, un po' perché pensavo di non essere in grado di scrivere un libro sul mio vissuto con la malattia di Meniere. Poi è arrivato febbraio 2021, è arrivato il Covid in una forma molto molto grave. Sono stata ripoverata, ho respirato da una macchina, è stato molto pesante. In quel periodo ho cominciato molto a pensare perché non potevo fare altro, non potevo leggere, non potevo scrivere. Quindi pensavo e pensavo a questi appunti. Poi sono tornata a casa, bella carica di cortisone, ho continuato cortisone per oltre un mese, non ho mai dormito in quel periodo. E quindi cosa facevo di notte? Ho cominciato a prendere fuori questi appunti. E ho cominciato questo viaggio a ritroso nella malattia, con la malattia, nella malattia. Ho ricordato cose che avevo dimenticato, cose che avevo scelto di dimenticare, ma ho ricordato anche tante belle cose. Perché a me la malattia ha portato cose meravigliose. Io ho incontrato persone fantastiche, ho incontrato medici meravigliosi e quindi è una malattia che mi ha dato tanto. E quindi questo è sugli appunti. Ora vorrei soffermarmi sul concetto di silenzio. Le persone normali, sane, danno per scontato il silenzio. Ho mal di testa, mi chiudo in una stanza, sto in silenzio. Sono stanca, mi riposo, voglio silenzio. Ecco, per noi malati di meniere il silenzio non esiste. Noi abbiamo sempre, sempre, sempre un rumore in un orecchio, a volte in due. Questa mancanza di silenzio ci fa mancare il nostro rifuso, quello che è il rifuso di tante persone. L'assenza del silenzio. Provate a immaginare un mondo di rumore, solo di rumore. Perché quando tutto va bene è un ronzio, il rumore di una cascata. Poi si entra in una fase un po' pericolosa, pre-crisi, aumenta il fischio. Oppure, come è capitato a me, ma anche altri malati che sono qui in sala, anche l'altro orecchio comincia a fischiare. E allora si entra in un concetto dove l'unica cosa che si può fare è cercare di distrarre la mente. Distrarre la mente, ecco io in questo sono stata molto fortunata, perché io ho imparato a vedere il silenzio. E guardare il silenzio mi fa superare il rumore che io ho costantemente, anche in questo momento, mentre parlo, dentro la testa. Quindi il silenzio per i normodotati è qualcosa di assolutamente normale, ma è la mancanza di silenzio che è un grande, grandissimo problema. Un problema che va affrontato, va superato, va sopportato e supportato. Questo è fondamentale. Il sottotitolo sui gradini di un'ascesa è stato un po' più difficile da scegliere, no? Ecco, quando si vive con una malattia cronica, che sia più o meno riconosciuta da questa vergogna, che è l'attuale assenza di riconoscimento del servizio sanitario sulla malattia di Meniere, che non la riconosce come patologia cronica e nemmeno invalidante, ma è una patologia cronica. Poi il dottor Cavassuti forse lo dirà molto meglio di me, ma quando c'è una diagnosi di malattia di Meniere è una diagnosi a vita. Quindi non possiamo dire che si supera. Certo, ci sono periodi migliori, periodi peggiori, ma ci sono dei periodi molto difficili, molto difficili. E quindi la vita è sempre in salita. E io l'ho rappresentata con questi gradini, i miei capitoli sono scalini, si sale, si sale. Fin dal mio primo sintomo, che è stato quando bambina di circa 8-9 anni, ho capito che guardando il silenzio, perché ero in un posto dove ero assolutamente sola e non c'era alcun rumore, io sentivo rumore. E quindi, ma cos'è il rumore del cervello? Forse l'hanno tutti questo rumore. E allora ho preferito ignorarlo. E sono andata avanti così, fino a tanto, che a 29 anni poi la malattia si è conclamata. Ora, quando si vive una patologia cronica, le difficoltà ci sono per tutti. Ci sono malattie molto più gravi della Menier, ma questo non consola. Proprio un assistente del dottor Salvi, in neurologia, un giorno io aspettavo di essere ricevuta dal dottor Salvi e mi sentivo in imbarazzo perché c'erano persone con patologie ben più gravi della mia e mi sembrava quasi di portare via un posto. Allora, proprio fu questa dottoressa che mi dice, non ci si consola della propria sofferenza guardando quella più grande, perché se soffri, soffri. E questo è. Allora, in questo percorso io sono stata particolarmente fortunata perché ho avuto una famiglia che mi ha sempre aiutato. Mio marito, quando sono tornata dall'ospedale dopo il Covid, si è riletto 6.000 volte i miei appunti perché ogni volta che andavo avanti un pochino glieli facevo rileggere perché mi sembrava impossibile di riuscire a scrivere qualcosa che avesse interesse per gli altri. e quindi davvero grazie a mio marito e grazie a mia figlia. La mia figlia, a sei anni, ha chiamato per la prima volta i soccorsi con il mio primo attacco molto, molto importante. A lei ho fatto leggere il libro solo quando ero ultimato e lei mi ha detto una frase che io ricordo molto bene. Oggi sono un po' fragile, diciamo così. Ha detto che, avendo vissuto la mia malattia da figlia, ha sempre vissuto la sua mamma malata, ma non era una donna. E ha rubato tanto, come a tutti i malati che sono qui in sala in questo momento. Però sono, come dicevo prima, anche fortunata. Fortunata perché dopo essermi sottoposta a un intervento al cervello, che è stato insomma piuttosto impegnativo, io credevo di aver superato il pericolo degli attacchi di vertigine. E quindi mi sono lanciata in questa avventura che è costituire un'associazione di malati per i malati. Era stato qualcosa di completamente nuovo nel mondo del volontariato. Il professor Mira, uno dei grandi padri della vestibologia, presentandomi a un convegno medico dove io ero chiamata a fare la relazione di introduzione, disse la signora Gaggioli, che rappresenta i malati di maniera in Italia, più famosa per i suoi no che per i suoi sì. Ed è vero, io ho voluto un'associazione che fosse completamente diversa, un'associazione di malati per i malati, con l'aiuto anche di persone insane ovviamente. Purtroppo anche familiari sono stati pochi, qui ne sono presenti alcuni e a loro un grazie particolare, perché sono stati proprio un evento raro. Però io ho trovato malati come me che avevano voglia di riscattarsi. Quando noi abbiamo cominciato a organizzare i primi incontri, tutti pensavano a, caspita, riunioni di malati di meniere, chissà, depressi, tristi, lamentosi. Cioè, lo vorranno, se vorranno, lo potranno dire agli altri. Era festa, festa pura, allegria, scherti, prenderci in giro. Perché vedete, per esempio, l'aspetto della sordità. Tra noi schertiamo moltissimo, no? Cos'è? Non hai capito? Sei sordo? Spostati, orecchio destro, orecchio sinistro, tutte e due le orecchie, insomma, un po' un problema. Ma quando prenderci in giro solo gli altri, è questo un po' ruga. Dicevo poc'anzi al dottor Saldi che nella loro struttura, dove i prelevi del sangue sono un'eccellenza, rapidi, veloci, ben organizzati, hanno deciso di togliere via il tabellone. Quindi c'è un bravissimo volontario che parla e dice dove andare, ma io non capivo. E me l'ha detto una volta, poi me l'ha detto due volte, alla terza me l'ha detto, ma gliel'ho già detto due volte. Sì, ma io sono sorda. E questo è il problema. E quindi vivere la malattia, subire la malattia, ma la malattia come momento di riscatto. Quando la carissima amica Maria Grazia Florido si è occupata della pubblicazione del libro su Amazon, è preciso che abbiamo scelto di pubblicare su Amazon, anche se avevo un editore disponibile a pubblicarlo, perché volevo tenere un prezzo bassissimo in modo tale che non ci fosse difficoltà da parte delle persone ad acquistare il libro per una questione economica. E quindi, ecco, Maria Grazia, che non conosceva il mio mondo, è rimasta molto sorpresa ed è stata anche molto partecipe. Ha avuto una pazienza infinita perché tutto quello che è tecnologia, per me, è un mondo che non esiste assolutamente, quindi mi ha dovuto dire le cose 200 volte. Però ecco, nel nostro mondo, di malati, di condivisione, di compassione, con passione, solidarietà, empatia, si gioca molto, si scherza molto, si piange a volte, poi si torna a ridere, uno stimolo, un appoggio, un sostegno. Ma questo mondo abbiamo cercato anche di portarlo fuori, di far capire a chi non vive la malattia cosa vuol dire vivere con una malattia che all'improvviso ti può mettere a terra, a terra vomitando, con episodi di incontinenza. A me è capitato ed è una cosa terribile, terribile, in mezzo alla strada. Una malattia che ti mette in difficoltà perché spesso non capisci cosa sta dicendo all'altro. A me è capitato di sentirmi dire dalla cassiera del supermercato ma cos'è? Sorda? Quasi fosse una colpa. Sì, sono sorda. Sono sorda. Questo è un aspetto, anche perché a noi la protesi acustica non è che serva un gran che, diciamocelo per te. E quindi questo è in un ambiente piccolo, raccolto, ci si difende, fuori meno. Poi la paura. La paura che diventa compagna di vita. Paura che l'attacco arrivi in quel momento quando sei da solo col tuo bambino, quando sei al lavoro, se mi vedono, perdo il lavoro ed è successo tante volte. se sono per strada, cosa faccio? E quindi abbiamo cercato noi, dell'associazione, cercato di portare fuori la conoscenza della malattia. Siamo stati rifiutati da tutti, da tutti. L'unico che ci ha sempre accolti e dato il sostegno che poteva in tutti e modi è stato il dottor Pizzo dell'Ordine Antimedici di Bologna. Ma tutte le altre istituzioni ci hanno chiuso le porte in taccia. L'ultimo mio incontro al Ministero della Salute, il terzo, mi è stato detto la malattia di Meniere è paragonabile a un'enterite. La mia risposta è stata noi malati di Meniere abbiamo molti problemi. Premetto che erano due medici questi che mi hanno detto questa cosa. Ho detto noi malati di Meniere abbiamo molti problemi. Uno di questi è l'ignoranza dei medici e nei medici l'ignoranza è colpa. E glielo dico da moglie di Meniere. Però non è cambiato niente. Quindi il mio percorso in questo libro ci sono stati momenti di grande difficoltà momenti in cui mi accorgevo che stavo piangendo dei momenti in cui mi accorgevo che stavo sorridendo perché ricordavo momenti bellissimi tra di noi e quindi un grazie particolare lo devo ai volontari dell'associazione che si sono messi subito di fianco a me. io qui ne vedo diversi non li cito per non metterli in imbarazzo però sono state persone meravigliose che hanno lavorato di notte per aiutare per sostenere voglio due le dico Andrea e Giancarlo quei due signori là che quando io dicevo mi è venuta un'idea loro si guardavano in faccia e dicevano oddio però hanno sempre dato corpo alle nostre idee e quindi è stata un'esperienza bellissima il covid mi ha messo nella condizione di capire che non ce la potevo più fare perché comunque gli anni sono 67 era già qualche anno che molto stanca e quindi ho dato le dimissioni il nuovo direttivo non ha ritenuto di aver bisogno di me e quindi ho detto sono arrivati in cima alla scala della mia vita di volontariato di volontaria in realtà non è così è nella vita nel volontariato perché il volontariato non conta dire io sono presidente io sono volontario io sono bisogna esserlo ma bisogna esserlo nell'anima nel profondo farlo con amore con partecipazione senza ambizioni di alcun tipo questo è aiutare le persone farlo in silenzio farlo con rumore ma farlo farlo bene uno dei miei motti è sempre stato lo ripetevo ai nostri volontari che il bene bisogna farlo bene e noi l'abbiamo fatto bene su questo posso essere assolutamente certa e quindi arrivati in cima a questa questa scala ho detto ok qui si conclude la mia vita nel volontariato però io mi sentivo un po' orfana e un po' mamma al tempo stesso mamma dei tanti malati che continuavano a chiedergli informazioni orfana di tutto quello che i tanti malati mi hanno donato negli anni che è stato tantissimo tantissimo io mi sono nutrita dell'amore di tante persone nei miei confronti è stato fondamentale per me e quindi ho detto ok cosa posso fare l'associazione è troppo impegnativa non ce la faccio e quindi ho creato questo piccolo gruppo di autoaiuto ci aiutiamo semplicemente incontrandoci una volta al mese online forse un giorno in presenza dandoci sostegno giocando con la nostra malattia nella malattia ma dicendo soprattutto una cosa io sono Nadia Gaggioli con la malattia di Meniere non sono la malattia di Meniere non sono Menierta un termine che io odio l'ho detto a tutti i congressi medici non mi riconosco perché io non sono la malattia io sono io con la malattia questa è un'altra cosa e quindi il viaggio continua molto più in piccolo molto d'anzia notta ecco questo è il mio viaggio con alcuni amici con i tanti che sento mi scrivono ogni tanto incontro e questo è il mio libro la mia testimonianza che dalla malattia di Meniere si può imparare tante cose si possono imparare tante cose che sono cose che fanno anche bene perché è bene bisogna farlo bene adesso la parola al dottor Pierpaolo Cavastuti che è il mio torino da oltre 20 anni ha una pazienza infinita e io lo adoro scusate ma l'inciso ci vuole grazie grazie Nadia certo che hai voluto partire nel titolo del tuo del tuo libro dal terzo problema che di solito il paziente di Meniere lamenta la cufena di solito il paziente si lamenta perché non ci sente ma soprattutto si lamenta perché ha queste vertigini che gli tolgono la capacità di avere una vita normale di sapere cose sopra e cose sotto cose davanti cose dietro come medico è stato sicuramente una grandissima opportunità conoscere te e avere rapporti con questa associazione che tu hai creato e me ne sono reso conto rileggendo il libro cioè rileggendo la tua vita nel libro tante cose non le sapevo tante cose rimangono nel non detto tante cose rimangono nel non detto non le sapevo per esempio tutta la ovviamente la storia tua più intima hai avuto il coraggio di metterti anche a nudo in queste in queste cose che hai scritto facendo vedere che sei una persona a tutto tondo e non soltanto appunto una portatrice di una malattia che è un'etichetta comunque troppo restrittiva per chiunque questo noi medici di solito non lo capiamo e questo lo dico io per primo cioè davanti ho un paziente che può essere più o meno simpatico più o meno rompiscatole che si lamenta di certe cose e io che cosa sono? Io sono un medico che ha in mano quel po' di esperienza quattro armi spuntate perché purtroppo per la meniera noi abbiamo quattro armi spuntate sappiamo che sappiamo che il problema non lo risolveremo e questo è molto frustrante molto frustrante perché uno fa il medico perché vuole essere Dio vuole essere onnipotente dare la salute questa malattia qui non te lo permette per cui bisogna imparare a scendere a patti a capire che cosa fa bene a quel paziente e come medico uno si aspetta fondamentalmente di andare a delle medicine con Nadia non è stato assolutamente così la Nadia ci ha tirato fuori un discorso talmente ampio complesso di persone dietro la malattia di persone che si vogliono trovare associarsi per far sentire la loro voce per far capire ai medici che problemi hanno con dignità con grande dignità qui l'ha detto un po' di gioco un po' di allegria anche con dei bei lacrimoni perché ne abbiamo visto un po' di tutti i colori voi sapete questa è una malattia essendo una malattia cronica essendo una compagna di tutta la vita è una malattia che anche nel breve periodo in cui me ne sono occupato io gli ultimi 25 anni diciamo è cambiata tantissimo come approccio terapeutico è una malattia molto soggetta alle mode delle terapie abbiamo avuto ondate un po' di tutti i tipi abbiamo cercato la verità la soluzione in tante cose non l'abbiamo mai trovata abbiamo trovato qualcosa che ci dava una mano per un certo periodo e poi niente la frustrazione di dover ricominciare da capo e così ma anche per noi medici quello che diceva Nadia della incomprensione dei pazienti anche per noi medici effettivamente scusate l'incomprensione dei medici anche per noi medici quando ci rapportiamo gli uni con gli altri vediamo che abbiamo modi di intendere l'approccio a questa malattia completamente diverso completamente diverso c'è chi appunto vede il paziente come un oggetto in qualche modo da rammendare c'è chi riesce invece un po' a entrare nella nella psicologia diciamo del paziente entrare un po' nella nella sua personalità prenderlo un po' per mano io ultimamente a tutti i pazienti nuovi che vedo gli dico guardate qui tanto gli do una terapia che la chiamo il cocktail di benvenuto è una cosa democratica uguale più o meno una per tutti qui vediamo strada facendo che cosa succede con questa malattia se sei fortunato finisce lì se non sei fortunato bisogna che ci inventiamo qualcos'altro e glielo dico qui si comincia un percorso insieme io devo io devo imparare a curarti come tu devi imparare a curare te stesso seguendo quello che io ti dico i fallimenti ci sono perché cadute e cadute e ricadute e ancora cadute perché la malattia è così purtroppo non abbiamo ancora trovato il modo di inchiodarla da qualche parte e farla finire Nadia ha appunto dato la possibilità a tanti medici che hanno voluto imparare qualcosa su questa malattia di interloquire quei pazienti in un ambito al di fuori del gabinetto dell'ambulatorio facendosi che la relazione diventasse anche di amicizia un po' di parità tra medico e paziente credo che in questa malattia sia fondamentale è una malattia che non si vede gli altri che ci stanno attorno non capiscono che cos'hai se anche il medico dimostra di non capire quello che hai e di dire prendi queste pillole o addirittura darti una pacca sulla spalla come abbiamo sentito dire a tanti oppure prenderti e farti tutti gli esami possibili immaginabili risonanze contro risonanze in modo da cercare chissà cosa sappiamo che abbiamo dei limiti e non saranno degli esami in più a farceli superare la diagnosi del malattia di Menier è facile se si ascolta il paziente ti si mette anche cinque minuti Menier quattro sintomi avevi identificato la vertigine la ipoclusia che andava e che veniva mi hanno tolto la parola no no vai gli acufeni ah ok gli acufeni e la sensazione di chiusura dell'orecchio quando un paziente ti mette in fila queste quattro cose e magari ha con sé una risonanza in cui si dice che non ci sono patologie espansive o degenerative del sistema nervoso centrale la diagnosi è fatta ben difficilmente è un'altra ok quindi questo è una delle cose che noi dobbiamo assolutamente a Nadia che ci ha permesso anche di interagire fra noi medici confrontarsi su queste malattie perché quando il paziente è uno solo ovviamente ha poca attenzione quando sta sento l'associazione di centinaia di migliaia tanti siamo arrivati ad essere 2600 che sono comunque una minoranza dei pazienti che ci sono in giro quando cominciano ad essere tanti pazienti allora è veramente possibile cominciare a capire qualcosa soprattutto delle persone non solo della malattia io sono stato molto commosso dal libro che ha scritto Nadia veramente scoprire il dietro le quinte di una malattia perché è così no da me il paziente viene dicendo mi gira la testa non mi viene a dire sono frustrato perché volevo andare allo stadio e non me la sono sentita è tutta un'altra cosa ma la sofferenza viene dal giramento di testa ma viene anche dall'aver paura di fare le cose quotidiane da non azzardarsi più a tenere un figlio un nipote in affidamento in custodia per qualche ora da privarsi delle cose più belle sociali lavorative da perdere il posto di lavoro noi abbiamo visti anche di questi quindi non si può che di ringraziare Nadia perché veramente ha portato il paziente la persona paziente la persona che soffre di una malattia al centro dell'attenzione grazie Nadia un attimo solo adesso interviene il dottor Fabrizio Saldi dell'istituto per le scienze neurologiche di Bologna un attimo che montiamo le diapositive grazie 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 ecco eccoci alla prossima perfetto ho prestato tantissimo il tuo libro ho imparato un sacco di cose su questo e mi è piaciuto anche il modo con cui l'hai fatto a Gheradini perché la malattia si conosce nel tempo la malattia deve essere conosciuta nel tempo e tutte le fasi sono fasi importanti queste che uno vive ed è assolutamente importante il nostro compito di medici è quello di sia di far conoscere la malattia ma di supportare chi ha la malattia per cui sono malattie croniche per cui non è più possibile una gestione di queste malattie croniche spesso rare a cazzo come viene fatto adesso secondo me dobbiamo cambiare proprio la testa imparare dalle associazioni come si gestiscono le cose quello che abbiamo fatto un po' in questi anni è bene le persone hanno bisogno di facce non chi c'è c'è per cui se ti trovi bene con una persona devi andare a pagamento è una rivoluzione che dobbiamo fare anche al tema delle nostre strutture quindi secondo me questo è un punto importante da tenerne conto poi mi piace molto alcune cose alcuni aspetti particolari quando diceva che non sapevo se quel casino che sento negli orecchi è normale nemmeno io faccio il mio outing oggi io sono un grave dislessico e tutta la fatica che facevo a leggere a studiare medicina e tutto pensavo che fosse di tutti e non solo mia e in effetti sono stato fregato perché è solo mia però questo mi ha portato a raffinare sempre più sistemi per imparare rapidamente e finire l'università in tempo quindi per me è stato un ritrovarti su questo poi ma ci sono tante cose in belle questo io ritrovo un monto della sclerosi multipla che è il mio cavolo di battaglia l'imprevedibilità il fatto che quando non te l'aspetti ti arriva il fatto che non puoi contare su nulla il fatto che nelle tue scelte implica ecco questo implica che devi sempre tenere presente che c'è questo minaccio questa spada in ampio e sopra e questo per me è importantissimo perché quello che abbiamo fatto nel mio campo abbiamo cercato di far capire che la sclerosi multipla si può governare e la cosa importante è accettarla come malattia il mio psicologo che è uno sveglio diceva ai miei pazienti diceva tu ce l'hai spesso davanti ma spesso ce l'hai dietro la malattia non hai contatto è sempre un assassino o davanti o di dietro tu la devi avere accanto devi prendere coscienza che sei malato ma ti chiami Fabrizio ti chiami Nadia ma sei malato per cui devi condividere e devi vincerla perché se tu tu puoi vincere uno che è davanti o uno che è dietro puoi vincere uno che è al tuo fianco e questo per me è un concetto assolutamente importante perché cambiano le cose vedo che le persone che arrivavano da me terrorizzate con un'ansia terribile nel tempo sono cambiate ma sono cambiate tanto se tu gli dai sicurezza se tu gli dai un punto di di partenza da medico e gli dici gli fai capire che questo è un cammino che si fa assieme questo per me è un valore aggiunto enorme questo è un po' il motivo per cui la maggioranza dei miei pazienti non vuole che vada in pensione purtroppo e probabilmente non andrà in pensione per quello purtroppo però è proprio un gioco interessante questo qui sì un punto anche che mi preme molto anche perché le associazioni possono fare tutto e possono fare molto è un po' il rapporto con la direzione io ho visto cambiare radicalmente in questi anni l'atteggiamento che hanno le direzioni mediche nei confronti delle associazioni che sempre di più è un peso non è un valore aggiunto per cui bisogna fare una battaglia culturale secondo me perché te lo fai ecco questo questo bravo quando il sole della cultura è basso sull'orizzonte anche i nani proiettano lunghe ombre tradotto in un'altra maniera anche i nani diventano giganti e questo è un po' quello che è il mio pensiero degli ultimi anni abbiamo perso come medici l'entusiasmo la voglia siamo demotivati siamo scoglionati non abbiamo più quella ricchezza di rapporto che avevamo tra medico e paziente per altri medici di base si può dire è veramente un dramma dobbiamo ritornare a essere medici per reagregarci per essere medici poi ci sono tante di quelle cose si il rapporto medico-paziente secondo me questo è fantastico perché tu hai creato veramente un rapporto super galattico per cui uno dei problemi è quello dell'ascolto io ho un sacco di problemi ma uno dei problemi è proprio di capire e conoscere il bisogno io volevo fare un corso per il bisogno perché come medico io ho bisogno di capire l'approccio la richiesta che mi viene fatta perché non è mai diretta dal paziente è sempre mediata per me piaceva molto fare questo fare un corso tu lo puoi fare organizza l'analisi del bisogno ciao benissimo poi adesso quando mi fanno andare in pensione sì e poi l'altra cosa che mi interessa molto è quello dei gradini perché lì manca una parte l'hai strappata della mia vero il diciottesimo gradino il diciottesimo vuol dire PDTA per cui non è più pensabile che la Minière non abbia un PDTA per la Minière il diavolo vuol dire percorso diagnostico terapatico esistenziale per cui secondo me questa è una delle cose prioritarie che dovete fare su questo diciottesimo gradino zitta e mosca l'altra cosa invece è la scuola di Minière noi abbiamo già fatto questa esperienza che è fantastica la scuola di sclerosi multipla abbiamo fatto la scuola di Mestania la scuola di SLA tutte le malattie che seguo io abbiamo fatto la scuola insegnavo io alle persone cosa sono queste malattie per cui se tu le conosci tu sei più forte tu riesci a dare delle soluzioni se tu sei l'isbandatino sfigato tutto quanto solo perché diventi solo tutti quanti si tolgono dai coglioni tu cosa fai? e invece la scuola di malattia è un'aggregazione fantastica io ho visto fare dell'outing delle persone che mai al mondo avrebbero detto in giro che erano una fetta di sclerosi multipla o da SLA quindi la damiastenia quindi io penso che questa sia la scuola proprio una scuola perché compito voi avete il compito di educare i medici i medici hanno il compito di educare voi quindi è una cosa vicendeva ci sono due compiti che ci vogliono le palle per farlo poi ci vuole e poi queste sono le tre cose che volevo dire del 28esimo gradino ma la parte che mi piaceva era quella dell'accettazione di malattia alla fine perché questo è il punto da cui uno deve partire e tu l'hai accettato ma quanti l'hai accettato? nel momento in cui accetti la malattia io mi riferisco sempre alla mia esperienza sulla la sabbatura questa nell'accettazione di malattia ti cambia il modo ti cambia la visione ti cambia tutto quindi in un momento in cui vige il superman il superforte lo sborone essere malati non vuol dire che tu non sei un personale come gli altri hai una ricchezza enorme basta ho il piacere di introdurre un carissimo amico un carissimo fratello da solo 40 anni una delle persone più profonde che io ho avuto la fortuna di conoscere un profondo studioso del pensiero tradizionale non aggiungo altro dottor Loris Solmi buongiorno a tutti e grazie a Nadia per l'invito e a Paolo non so bene a che titolo sono qui ma perché non sono né medico né psicologo ho una modestissima laurea in filosofia e mi sono interessato in particolare di antropologia del sacro e di medicina tradizionali motivo per cui Raffaele Morelli che è il direttore sia dell'istituto Risa di medicina psicosomatica che della rivista abbastanza famosa mi ha voluto come collaboratore nell'attività dell'istituto il libro di Nadia mi ha colpito moltissimo lo dico di petto non me l'aspettavo ma mi ha colpito profondamente forse perché cinque anni fa ho subito un intervento abbastanza posto e ne sono uscito benissimo ma le uniche conseguenze gli unici postmi che ho avuto sono stati dei lievissimi giramenti di testa che paiono non essere né gravi né volersene andare ma insomma stiamo facendo delle indagini ma pare non esserci niente quando non c'è niente te li tieni però questi lievissimi giramenti di testa immediatamente fin dalle prime pagine del libro mi hanno consentito di entrare in risonanza con quello che ha scritto Nadia e allora ho pensato dentro di me mamma mia se io che ce li ho lievissimi sento questa lievissima nausea e mi dà così fastidio non oso pensare al Calvario che deve aver attraversato lei e siccome il Calvario lei lo descrive benissimo perché ha uno stile molto piano molto semplice ma molto efficace e parlo dell'italiano in cui ha scritto il libro veramente sono rimasto colpito una delle materie che approfondisco all'interno dell'Istituto Rizza è il significato il senso non delle medicine non convenzionali che francamente mi interessa molto poco ma delle medicine tradizionali che sono le cosiddette medicine antiche che esistevano prima dell'avvento vuoi della medicina moderna vuoi anche di tutte le mode che sono venute scoppiate cominciate nel secolo scorso di un modo di curare con questo o quell'altro metodo faccio un esempio la medicina indiana dell'Ayurveda è un sistema antichissimo lo stesso per la medicina cinese naturalmente lo stesso per la medicina araba lo stesso in Europa anche se è poco conosciuta non con la medicina tradizionale ipocratica che è la nostra medicina antica ma con la medicina ad esempio ermetica o paracelsiana la medicina che veniva coltivata in quelle che venivano chiamate le case della salute che erano i templi precristiani dedicati alla salute sacri ad esculapio sacri al dio serapide e insomma i sacerdoti che erano lì dentro si davano da fare per curare le malattie evidentemente con metodi altri ma non solo rispetto alla medicina ufficiale ma ripeto anche a quella che oggi si suole chiamare medicina alternativa con un bruttissimo termine giustamente Paolo mi corregge si dice non convenzionale lessicalmente è più corretto la grande differenza rispetto alle medicine non convenzionali è la ferma convinzione che l'essere umano l'essere umano non è formato solo di corpo e mente un binario che oggi la medicina ufficiale sente di fare proprio di poter condividere anche se non è che fra gli psicologi e i medici organici ci sia poi tutta questa collaborazione tutta questa intesa però insomma grosso modo facendo finta che le cose tornino e vadano bene con dei modelli più o meno traballanti almeno dal mio punto di vista vanno avanti la medicina le medicine tradizionali come quelle che ho citato prima sostenevano che invece fra corpo e mente ci fosse un intercapedine un intermezzo a fare da raccordo fra le due realtà la realtà psichica e la realtà corporea ed era una dimensione di tipo energetico oggi va di moda l'aggettivo quantico ma a me fa orrore quindi non lo userò perché non so nemmeno cosa voglia dire e credo che non lo sappia nessuno energetico cioè un elemento sottile dell'essere umano di tipo appunto energetico ondulatorio se volete che si occupa di raccordare mente e corpo io leggendo il libro di Nadia da ignorante quale sono e studioso nello stesso tempo quale sono ma le due cose vanno insieme se non ci sarebbe motivo di studiare credo che in un caso specifico come quello della malattia di Meniere questa componente sia davvero rilevante al punto tale che mi sarebbe piaciuto in un caso come quello di Nadia perché anche mia zia è malata di sindrome di malattia di Meniere ma adesso dando Dio sta meglio dopo 20 o 30 anni che ci tira dentro sta meglio sta benino mi sarebbe piaciuto sentire cosa ha da dire ad esempio una persona come Nadia Stefanenko o Stefanova come si chiama Stefanova una sciamana siberiana Stefanova laureata in pedagogia che però sciamana è nata viveva in Siberia e ha avuto la fortuna se di fortuna si può parlare di arrivare tutto il training di formazione ed è stata una delle ultime perché i compagni russi non hanno molto gradito non gradivano molto questi aspetti della cultura popolare e quindi hanno fatto una cura a base di ospedali psichiatrici abbastanza forte per cui li hanno eliminati quasi tutti ma siccome lei aveva una percezione diretta di questa dimensione dell'essere umano perché a sentire lei la vedeva e aveva una percezione visiva molto chiara e molto netta secondo me sarebbe stato interessante sentire cosa aveva da dire sulla malattia di Meniere in particolare perché io ci vedo avendo studiato l'equivalente occidentale di quella che è la Stefanova e la medicina che la Stefanova coltiva la terapeutica Paracelso trovo moltissimi punti di contatto con alcune cose che descrive Nadia nel suo libro quindi ho trovato molteplici spunti di interesse che secondo me sono tutti da approfondire esempio qualche anno fa una cosa che Nadia non ha messo nel libro lei e Paolo avevano un cane che non era un cane era un essere umano sotto sembianze animali Balmung e Nadia mi raccontava un giorno che c'è stato un momento in cui lei sentiva che stava per arrivarle una crisi e istintivamente il cane era pastore corso quindi era un molosso che si faceva dare del voi in quanto a mole si è messo in piedi su due zampe si è appoggiato a lei e l'ha letteralmente sostenuta sentiva percepiva che c'era qualcosa che non andava allora io mi chiedo se Balmung che era un animale ha percepito che c'era qualcosa che non andava e subito è corso in soccorso della padrona sostenendola vuol dire che a livello di forze perché faccio più fatica a pensare alla mente o qualcosa di organico c'è effettivamente qualcosa che deve essere simile a quello che i cani o gli animali non i cani non i cani anche i cani percepiscono ad esempio quando stanno per arrivare i terremoti quindi nella dimensione sottile dell'essere sbaglierò ma qualcosa c'è che si agita e guarda caso i movimenti che vengono attribuiti all'energia sono per eccellenza quello ondulatorio e quello a vortice e tutte queste esperienze che lei descrive del mondo che gira della testa che gira delle cose che gire a me non potevano non far pensare a questa dimensione dell'essere che quando l'uomo era meno progredito tecnologicamente ma un po' più progredito in termini di saggezza venivano ascoltate e prese in considerazione con questo non voglio fare il facilone perché ci sono troppe persone che si spacciano per e alla fine non portano da nessuna parte ma ce ne sono invece alcune che sono sapute e che secondo me prima o poi dovranno collaborare con la medicina che non sarà mai abbastanza scientifica nelle sue indagini perché quelle sono sacrosante non possono non essere il punto di partenza perché sennò non saremmo nel 2022 ma saremmo nel medioevo per cui c'è del materiale c'è del lavoro da fare e ho pensato inevitabilmente anche a quella che è la formazione tradizionale dei cosiddetti medicine men che noi chiamiamo uomo medicina che noi chiamiamo stregoni sciamani eccetera eccetera che ancora ci sono laddove esistono delle tribù che vivono più o meno in condizioni simili a quelle che era dell'uomo primitivo l'uomo medicina bene pensando al training che uno subisce per poter diventare un uomo medicina fermo restando che l'uomo medicina si nasce e non si diventa non c'è workshop non c'è fine settimana di medicina sciamanica tutte queste puttanate che vanno di moda e che sono orrende possano insegnare uomini medicina si nasce ma dopo essere stati riconosciuti da un altro uomo medicina anziano in genere si subisce un training si passa attraverso un training che comporta una doppia formazione la prima formazione è una vera e propria metanoia una vera e propria trasformazione dell'essere perché in un modo o nell'altro bisogna passare attraverso delle esperienze vive dirette di quella che noi chiamiamo l'altra dimensione l'altro mondo e in questo modo avere un incontro diretto un contatto diretto con quelle forze e quegli esseri se esistono ma loro li percepiscono così che domani quando sarà finita la formazione consentirà allo sciamano di curare i membri della propria tribù cioè gli spiriti che lui incontrerà durante il suo training saranno quelli che continueranno ad assistere nella sua professione medica e questo è un aspetto molto interessante in genere fa parte di questo passaggio un'esperienza di malattia perché non può esistere uno sciamano un uomo medicina che non sia stato malato a sua volta perché il libro di Nadia è molto bello da questo punto di vista nel sottolineare l'empatia che è necessaria lei la rivendica in primis nel rapporto medico-paziente dovrebbe essere fra tutti gli esseri umani ma l'empatia è un dato fondamentale perché ci deve essere qualcosa che passa fra malato e dottore medico attraverso il non detto oppure grazie al detto si deve creare un legame una capacità di intusleggere di leggere dentro del medico nell'animo del paziente e soprattutto dal punto di vista psicologico la ciliegina sulle torta è rappresentata da un aspetto che quando io ero bambino il medico doveva avere di default per accedere alla professione la compassione il sentirsi la vocazione il sentirsi chiamato dalla sofferenza degli altri cioè il desiderio di venire incontro alle sofferenze di un altro essere umano come elemento che partiva dal fuoco dal cuore scusate per cui si parlava del sacro fuoco un linguaggio figurato che si usava o delle volte si usa ancora oggi per l'arte ad esempio però detta più semplicemente è la vocazione ma in termini concreti ci vuole un elemento di compassione cioè colui che resta distaccato freddo separato di fronte alle sofferenze di un altro essere umano non è secondo gli sciamani candidato a diventare un buon uomo medicina e allora leggendo il libro di Nadia io non potevo non fare questa considerazione che se da un lato naturalmente Nadia non ha attraversato tutta l'esperienza di visioni che invece caratterizzano la formazione sciamanica e di presa di contatto con esseri invisibili sia che esistano sia che non esistano ciò che siano una fantasia del soggetto però è una fantasia operante attiva ha certamente invece attraversato tutta la parte psicologica della formazione di un nuovo terapeuta di un nuovo uomo medicina che è quello di uno sviluppo a partire da un un elemento iniziale che comunque ci deve essere dell'elemento della compassione della carità la caritas o la compassione come si dice nella filosofia buddista senza questa non c'è terapeuta uno può avere tutta la cultura che vuole essere il miglior detentore di nozioni scientifiche eccetera eccetera però non è compiuto non ha il cappello allora io credo che questo aspetto psicologico leggendo il libro di Nadia lei invece se lo sia formato attraverso la sua esperienza di malattia quindi non ha competenze scientifiche abbastanza ampie non è un medico non è uno psicologo neanche mai uno psichiatra ma l'elemento della compassione per il modo in cui lei ha vissuto la sua malattia lo ha sviluppato quindi è una mezza donna medicina e questo è toccante nel suo libro perché non è un elemento secondario l'empatia la capacità di entrare in risonanza con le persone e di entrare in contatto con il loro animo e da questo punto di vista è stata interessantissima questa lettura perché io ripeto a seguito dell'intervento chirurgico ho riportato come sequenza delle lievissime giramenti di testa e ho traslato la mia modesta esperienza su quella che deve essere stata la sua e sudavo freddo a leggere le descrizioni che lei faceva perché se io nel mio piccolo ho provato abbastanza fastidio non oso pensare a quella che deve essere l'esperienza di un malato di Meniere con una patologia conclamata vera e propria e questo com'è maturato sbocciato fiorito nel caso di Nadia Gaggioli nella fondazione di una associazione votata ad aiutare i malati gli altri malati quindi non è rimasta teoria astratta chiusa fredda ma è stata messa in pratica è diventata carne è diventata sangue e quindi complimenti perché il viaggio è compiuto c'è una meta che è stata raggiunta se non altro dal punto di vista umano ma io direi umano con la U maiuscola e e se posso fare un'osservazione finale tolgo disturbo questo sono tutto tranne gli appunti è un libro ed è un libro ed è un libro bello da leggere gradevole perché hai uno stile che fluisce è efficace perché quando deve pungere punge arriva ma appunto non si possono configurare come appunto perché ha una struttura un inizio una metà una fine uno sale con i gradini assieme a te soprattutto se va potuto fare l'esperienza minima di qualche vertigine o qualche giramento di testa sale con te e tu lo accompagni magistralmente fino alla fine per cui plaudo al Presidenza della Repubblica e alla Presidenza della Repubblica che ti ha voluto dare le onoreficenze che hai prima cavaliere poi commendatore perché te le meriti tutte e il tuo è un signor libro sia per come è scritto che per il contenuto grazie grazie Loris per il tuo prezioso intervento che parla di tante cose da cui promana il fuoco l'ardore adesso è una gioia che io lascio l'intervento al dottor Mauro Alivia con cui condivido lunghi anni di battaglie e di comunanza spirituale con cui abbiamo costituito l'associazione per la medicina centrata sulla persona Onlus che ha preceduto questa fondazione alla quale noi tanto tenevamo per poter cercare di maggiormente incarnare un'idea un tentativo un anelito il dottor Alivia è arrivato per questa occasione dal Perù per poter essere con noi in casa sua nella fondazione che ha creato prego io voglio ringraziare Nadia perché così uno potrebbe pensare che questa è un'autobiografia in realtà questo è un dono è un libro che si comincia a leggere non si può smettere non si può interrompere perché gradino dopo gradino siamo si è come presi per mano da Nadia nel percorrere questi gradini e direi che l'empatia viene normale uno si sente parte di questo cammino preso per mano da te ed è un grande dono anche per chi soffre una persona a cui sono molto legato alle prese con un covid un po' troppo lungo ha letto difilato questo libro e ha preso fiducia nel senso che allora ce la posso fare posso guarire anch'io e quello che porti la cosa straordinaria in questo libro è che l'esperienza individuale della malattia gradino per gradino diventa via via esperienza collettiva nel senso che Nadia sente questa responsabilità in questi momenti terribili che ha passato fin da molto giovane nel momento in cui va avanti passo per passo certo invitata da un collega che la invita ad una riunione per parlare della sua esperienza ma direi che per lei diventa una necessità il fatto di aiutare gli altri quindi la sua malattia non è più solo un'esperienza individuale ma si eleva ad un'esperienza collettiva sente la responsabilità degli altri malati per comunicare trasmettere quelli che sono stati i suoi passi quindi in qualche modo la sua vita diventa una comunione con gli altri malati di meniere e da questo nasce l'associazione che è qualcosa di più di un'associazione è una condivisione una comunione è creare una comunità e e direi che in questo elemento c'è un elemento proprio straordinario direi che così in fondo è l'esperienza che tutti viviamo la malattia in sé è un fatto egoistico quando ci ammaliamo tendiamo a chiuderci è difficile comunicare la propria esperienza di malattia diventiamo sgorbutici diventiamo egoisti esistiamo solo noi con la nostra malattia ecco io trovo che uno degli aspetti fondamentali del libro di Nadia per cui non si può smettere di continuare a leggerlo e rileggerlo è proprio questo passare dall'esperienza individuale all'esperienza collettiva e quindi in questo salire questi dolorosi gradini in fondo si coglie sempre di più questo aspetto e direi che questo è in fondo la ricchezza il dono che Nadia ha fatto della sua malattia della sua vita quello di condividere con altri quello che ci ha raccontato l'incontrarsi nelle riunioni superare quello che era un momento di lamentela vivere fino in fondo questa malattia per cui c'è Nadia c'è Francesco c'è Giuseppe c'è Luisa che si confrontano per quella che è la loro vita certo si incontrano perché soffrono di quella malattia lì ma al di là di questo ognuno di loro ha una famiglia degli affetti quello diventa come un momento di condivisione di uscire di superare questo momento individualistico ed egoistico che infonde la malattia e Nadia in questo libro fai questo questo salto hai parlato di malattia come riscatto ma io aggiungerei malattia come dono malattia come possibilità evolutiva questo è il punto questo tema del rapporto milico-paziente questa tua gratitudine nei confronti di colleghi che hanno fatto questo percorso con te ho seguito con grande interesse condividendo in pieno le parole del dottor Trovazzutti e del dottor Salvi che non conoscevo perché è proprio così cioè noi o riscopriamo come medici quel sacro fuoco o non andiamo da nessuna parte gli ultimi anni sono stati catastrofici da questo punto di vista cioè il fatto che un paziente non trovi il medico che non possa incontrare il medico e che venga a mancare quella fiducia che è stata una tradizione della medicina in Italia famoso medico di famiglia quello che andava in casa e dall'odore che sentiva già faceva la diagnosi aveva la parola giusta che permette che ancora più delle medicine avviavano un processo di guarigione ma dove siamo finiti ma a che punto ci siamo ridotti mi è piaciuto molto quello che ha detto il dottor Cavazzutti nell'onestà di dire non la pacca sulla spalla ma questo dire guarda questa è la terapia ma sarà difficile un percorso che facciamo insieme credo che in questo così lavorare con Nadia è stato un dono per tutti e due e mi è piaciuto molto l'outing del collega Saldi confessando la sua dislessia in fondo come Nadia che sentiva questi rumori e diceva forse c'erano anche gli altri perché in fondo il tema oggi è il tema della malattia cronica noi ci stiamo avviando in un'epoca i prossimi anni saranno gli anni della malattia cronica io come medico mi sto già accorgendo ma sarà guardate una altro che pandemia cioè qui il tema del quello che succede dopo il covid di cui nessuno capisce niente cioè quindi vertigini stanchezza mancanza di concentrazione uno che si dimentica quello che ha detto un attimo prima cioè qui stiamo entrando in un casino ma di cui non abbiamo la più pallida idea ma non abbiamo la più pallida idea allora il tema è ma come convivere con la malattia cronica come ha fatto Nadia incontrando altre persone che si creino o no associazioni il tema è quello dell'incontro dell'aiuto reciproco e questo del tessere dei fili mi piace molto quella signora che stava tessendo tutta la conferenza perché in fondo questo tessere questo tenere il filo questa è la sfida che ci aspetta perché da soli non si va da nessuna parte questa è stata l'esperienza del covid questa sarà l'esperienza prossima avventura da soli non si va da nessuna parte uno potrà pure avere menia in tutta la vita ma cambia e come se cambia se c'è una rete intorno e mi è piaciuto molto una delle parti finali del libro di Nadia dove parla in poche righe della fine del rapporto con l'associazione che ha fondato c'è con Nadia il rapporto di amicizia e so cosa ha significato per te e direi che questo dal mio punto di vista per come ci conosco è stato una sorta di sacrificio estremo in fondo così in questa solitudine che è vissuto non è casuale che hai scritto questo libro e che stai facendo questo straordinario lavoro in fondazione con altri tipi di malati in fondo è come se uscissi da questo recinto per aprirti al mondo per comunicare che tutto è possibile perché tutto è possibile e tu con la tua vita con quello che stai facendo l'hai in fondo dimostrato qui sono state dette delle parole grosse condivisione compassione empatia e sì queste parole dobbiamo meditarle scoprirle e in fondo nutrirci di queste parole essere noi stessi portatori di questi elementi ma come dire riuscire ogni giorno ad essere parte di questa empatia parte di questa condivisione per questo mondo di malati cronici che ci aspetta dove veramente dobbiamo inventarci qualcosa e quello che tu hai inventato e ci hai portato secondo me ti ha salvato è questo elemento artistico che hai in atto perché scrivi poesie e nel libro hai messo delle poesie che facevano parte della tua raccolta scrivi questo libro in un modo che chi mi ha preceduto ha già tessuto le lodi che condivido in pieno ma poi dipingi cioè tu questi quadri sono tutti i quadri di Nadia e poi sei portatrice di un'altra arte ancora poco conosciuta ma che è l'arte del futuro che si chiama arte sociale perché per creare incontri per creare comunità bisogna essere capaci di costruire e di giorno per giorno quest'arte tu hai questa qualità perché tu sei portatrice dell'arte sociale che è l'ultima delle arti ma che è fondamentale per il futuro in cui c'è questo grazie ringrazio il dottor Alivia per le sue profonde considerazioni e non è un caso che insieme prima la precedente OVUS poi questa fondazione nasce con quest'intento di azione di prossimità sono state citate due cose il sutra il filo il fare la maglia il tessere con la dottoressa scotz e un'altra amica abbiamo per esempio progettato un corso di maglia qui la dottoressa scotz è una collega tra l'altro con la sua amica hanno costituito questa realtà che si chiama tempo di lana e noi abbiamo detto ma come dobbiamo tessere un tessuto insieme quindi spero che qualcuno dei presenti o di chi ci segue di Bologna gradisca questa iniziativa che consente attraverso il fare la maglia di creare quel tessuto sociale che il tessuto organico rimanda altra cosa il dottor Alivi ha citato la possibilità di agire in termini di prossimità le macro azioni che sovente anzi quasi sempre ai noi sono un esercizio di corruzione non accadono nelle azioni di prossimità ha usato l'aggettivo possibile ebbene la fondazione collabora con progetti con l'impresa sociale che si chiama l'impresa possibile della dottoressa Stefania Vulcano che è anche componente del nostro consiglio di amministrazione proprio per fare delle cose che i latini avrebbero chiamato parva sed apta nobis tenemus possono essere cose piccole sono adatte noi le continuiamo a fare questo è credo quello che come fondazione il dottore Alivia io e gli altri consiglieri ma il gioco tramontalti che è presente in sala il dottore Amabile il dottor Cucca il dottore Savulcano il mandatore Gaggioli intendiamo portare avanti ecco era mio compito in qualche modo consentitemi di citare chi siamo da dove veniamo e dove con l'aiuto di tutti speriamo di andare un po' avanti perché come dicevano i latini meglio presumo aspiriamo ad andare avanti a cose più alte per il bene degli altri grazie e Nadia conclude la sera eccomi qua siamo in cima alla scala tutti insieme molto bello allora io ho preso un po' di appunti c'è un filo comune tra le persone che hanno parlato del mio libro e che mi hanno commossa e ringrazio profondamente ed è quello dell'empatia della compassione e dell'incontro tra medico e paziente io ho sempre raffigurato i nostri conti i nostri convegni ma anche quando sono stata invitata a partecipare come relatore a importanti congressi medici ho sempre raffigurato questo cesto questo grande contenitore dove noi malati mettiamo il nostro vissuto di malato ed è lì a disposizione dei medici che vanno a raccogliere le informazioni di quei medici ovviamente che sono disponibili a capire che solo camminando fianco a fianco in una malattia cronica si può arrivare non dico alla guarigione per adesso ma a un livello di vita accettabile ecco l'accettazione molte persone non accettano la malattia perché pensano che accettarla significhi arrendersi è il contrario se io accetto di essere malati io combatto con tutte le mie forze verso un qualcosa che so di avere come diceva Dottor Salvi mi sembra davanti o dietro c'è è lì ma io conoscendo la malattia conoscendo gli strumenti che i medici mi danno posso fare il possibile per combatterla a volte vincerò a volte perderò mi troverò per terra volontare come è capitato a me e ci fu mia sorella che è qui in sala io non uscivo da giorni perché stavo male un giorno mi sembrava di stare meglio esco arrivo in un certo punto e mi viene un attacco in mezzo alla strada mi attacco a una rete e mi lascio andare a terra fortunata passa mia sorella con tutta la gente sopra mi prende mi porta a casa l'istinto è non esco più perché se torno ad uscire mi torna a capitare poi è sgradevole è brutto sono in difficoltà bisogna anche superare questo esco se mi capita qualcuno mi aiuterà questo è il principio e quindi quello della collaborazione medico paziente paziente medico insieme fianco a fianco dove non c'è una figura che sta sopra e una che sta sotto ma due figure a fianco a fianco come spesso ho citato un medico che dico sempre il mio dottor Cavazzuti del sud e del dottor Califano che forse adesso è collegato perché così che si va avanti provando provando insieme senza la sensazione di essere abbandonati perché siamo scomodi perché non portiamo alla guarigione quindi caspita questi malati di maniera così noiosi che non guariscono mai quindi la solidarietà l'empatia e anche l'apertura alle medicine perché in realtà la medicina è una quella che cura il paziente e può essere quella tradizionale quella antica quella moderna ma insieme insieme per cercare di stare quanto meglio possibile qui in sala ci sono persone che alle quali voglio molto bene che sono state vicino a me fin dall'inizio qui c'è Carla c'è Lucia c'è Giancarlo c'è Andrea c'è Lorenzo ci sono i loro compagni marite moglie che hanno dato una mano all'associazione altri non sono potuti venire ma ci stanno ascoltando o ci ascolteranno ecco io sono molto grata a tutto questo perché avere la maniera mi ha consentito comunque di scoprire un mondo meraviglioso un mondo di persone meravigliose che sono un dono per la vita ecco l'ultima cosa che ha sfiorato il dottor Alivia ha parlato della mia arte io dico sempre alle persone malati di trovare un rifugio nel mio caso la pittura vedete queste due dipinti che raffigurano l'aurora boreale sono stati fatti in un momento in cui ero abbastanza tesa nervosa giù stanca sotto ogni aspetto e quindi mi sono messa davanti ho detto voglia di aurora boreale come è fatta l'aurora boreale chi se ne frega come è fatta l'aurora boreale io la faccio come ho voglia di farla e quindi lasciare andare il pennello e dipingere piace non piace a me piace è piaciuto farlo ma può essere lavorare a maglia quello è il lavoro della sera per me davanti alla televisione so fare solo dritte rovesse ma delle sciarpe lunghe chilometri ma bene può essere il ricamo può essere qualunque cosa trovare un rifugio dove andare quando i momenti a livello fisico ovvio non quando sei sotto attacco ma magari dopo ecco questo è molto molto importante c'è tanto lavoro da fare ancora io sono già anzianotta anzi sono proprio entrata nell'anzianità quindi mi dico anzianotta perché così sono un po' però i giovani i giovani malati i familiari dei malati cosa che mi hanno sempre avuta poca rispondenza c'è tante cose da fare ancora e si possono fare e vanno fatte perché farle farle bene farle insieme è una cosa fondamentale io saluto tutti ringrazio tutti i relatori per le bellissime parole che mi hanno commossa ma sono riuscita a non piangere e quindi questo è già un successo perché qui in Saga c'è un catering di là che ci aspetta di una pasticceria meravigliosa quindi non scappate via chi è collegato lo saluto col cuore spero di vederlo presto vedo tanti amici un bacio a tutti quanti e grazie davvero a tutti